Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gallows, episodio 52 del clan Morse in Imperi Mortali Total War Warhammer 2 Il 23 gennaio sarà rilasciato un nuovo DLC riguardante i Re dei Sepolcri La nuova fazione che sarà in questa zona, quindi non ci sarà più la nostra fratellanza dei Nerkioni Ma metteranno i Re dei Sepolcri Che ovviamente è una fazione molto faiga che potremmo decidere un giorno di... Insomma, di fare, perché ovviamente una Gallows voleva fare finalmente una fazione del bene Ma questa cosa potrebbe cambiare i suoi piani In ogni caso, l'episodio di oggi purtroppo ve lo dico subito, sarà un pochino più corto Ma non è un interessa, cioè, insomma, interessa relativamente Ecco, muoviamo Quick in queste zone Tanto praticamente basta un turno che stia in zone decenti e recupera la vita Poi, cosa stavamo facendo? Stavamo muovendo degli eserciti da questa parte Allora, fatemi ricontrollare perché è un po' che non gioco Tu sei non Monfric il cancrenoso, dov'è il mio amicissimo Monfric? È morto? Non è qua Scream, scream Allora, qua adesso ci sarà una rivolta fra poco Quindi, tu puoi entrare dentro? Sì, ma non è questo lo scopo Resta qua e basta Fatto Poi tu rimani lì e buonanotte Te ben deciso Te Ti voglio riportare a sud Perché ovviamente, ragazzi, cosa è successo nello scorso episodio? È arrivata questa cosa E ci sono Orde simili, penso, in altri punti della mappa Perché ci sono altre zone Altre fazioni legate al caos che purtroppo non possiamo conoscere Questa sappiamo dov'è Grado di forza 7 E poi ce ne sono altre Sembra che siano forti tutte uguali Forse la nostra è effettivamente la più debole Vediamo un po' Noi siamo scivolati in grado di forza 9 Perché 3 di queste si sono messe davanti Se no saremmo in grado di forza 6 Probabilmente O qualcosa del genere Sembra che esistino dividendo in 3 gruppi da 2 Quindi Se riusciamo a affrontare un gruppetto alla volta Dovrei essere in grado di eliminarli tutti Perché non sono unità di elite Cioè almeno vedo che ci sono Non vedo prescelti Sono tutti guerrieri del caos alla fine Qua ci sono delle unità un pochino più forti Qua abbiamo delle Mura Qua non riusciremo mai a fare questo in 4 turni Adesso vediamo Muovemo prima gli eserciti E poi vediamo un attimo Allora tu Per ora vieni qua Potremmo Visto che sei in questa zona Reclutare qualcosa Cosa che potrebbe servirti Sostituire questo Con dei Ratti d'assalto Di sicuro Questo ci metterebbe Due turni Nei già due Qua abbiamo un editto Che permette di reclutare Vero? Sì Allora Ma andiamo via Questo Questo E direi Un altro di questo Ok Qua posso reclutare anche Globadieri del vuoto No però ne ho già due Questi va bene Dai ne teniamo uno Giusto per Se capita Andiamo a prendere di questi Così E così No ne voglio reclutare un altro Ok Aumentiamo la qualità Di queste truppe Passando ai rati d'assalto Questi qua hanno gli scudi Mentre questi qua no Loro sì Questi qua no Questi i labardieri Però sono superiori Da ogni punto di vista Quindi Insomma va bene lo stesso Perdono un pochino In forza della No non è vero Non è assolutamente vero Va bene Poi ci sei tu E Vieni anche tu qua Katar Ok Ti posiziamo qua Tanto stai nell'esercito Per quanto riguarda I miei agenti assassini Tu sei qui Fatemi vedere un secondo Che non mi ricordo Tu Ok tu sei tu Tu Entrerai nel suo esercito Ok Quindi qua effettivamente Poi andremo a eliminare un altro Ma potrei eliminare questo Tanto Questo qua serve solo contro i nani E gli uomini di lucertola Perché hanno o gli elicotteri O gli pterodattili Via Tu invece vai abbastanza bene come sei Qua potrei reclutare qualcuno di questi Vediamo un po' Vediamo di potenziarci un po' tutti Forse è il caso di eliminare anche questi No dai così va bene E utilizziamo quello la per fare un pochino di male in più Il tuo esercito è a posto Potrei darti anche te qualcuno di quelli che picchia Questo è l'esercito che è più brutto È davvero il più brutto che abbiamo Però Facciamolo solo andare bene e basta Ok l'abbiamo mossi praticamente tutti Manchi solo tu Il tuo compito è vedere qua sopra se c'è qualcuno Abbiamo già trovato un bel esercito Voglio vedere finalmente Caracca come cazzo è fatta Perfetto Dunque Costruzioni Costruzioni Qua potrei fare delle mura Per resistere un po' di più Però Ora non posso Quindi questa città per ora la lasciamo perdere Potrei potenziare un po' questa Per esempio qua le mura non ci sono Così abbiamo sistemato Cioè le mura ci sono ma non sono potenziate Così andiamo a sistemare pure quello Qua potremmo mettere questo Che costa poco ci dà soldi Di questa città a posto Qua vorrei far questo ma ora non ne abbiamo più Direi di non spenderne così teniamo comunque una certa base economica Fine turno Ora ragazzi probabilmente perderemo qualche città in questa zona qui Però se riusciamo a tenere qualche turno già quick Secondo me un esercito Un due eserciti loro riesce a batterli Perdendo molte truppe ma Quale le possiamo reclutare anche se sono di livello avanzato Ecco Questo è un esercito mica male invece Porca miseriaccia Aveva un sacco di guardia dei tumuli e anche grandi armi Aveva due cavallerie quelle Fantasma Mamma mia Questo qua è un esercito serio ragazzi eh Quello è un esercito che ci farebbe davvero male Avremo bisogno delle catapulte Che fanno danni magici Per andare contro i Per andare contro Scusate La voce Sto per morire Per andare contro Le unità fantasma Mentre per le altre Tutto sommato siamo già abbastanza attrezzati Ah i saccheggiato scheggi Dai di questo non mi interessa Che bell'esercito Tutto di schiavi Dai distrutta Se questi qua non in giro a portare morte e distruzione È proprio il loro scopo della vita Comunque mi avete scritto in tanti della confederazione Non la faccio Al di là del fatto che gli scaven sono per le guerre civili Non per le confederazioni Soprattutto il camp Estelance È quello che ha generato nella storia più guerre civili di tutti Quindi togliendo questo fatto Cioè anche non considerando questo fatto Confederarci con questi non ha senso Dovremmo abbandonare completamente il nord E avremo pochissimi eserciti per gestire qua Perché se ne reclutiamo ancora uno Già non sarebbe sufficiente Per... Ah ci sono delle colonne all'entrata Già non avremmo i fondi sufficienti per mantenere Quell'esercito lì Quindi non siamo messi molto bene Cioè se dovessimo confederarci saremmo messi davvero male Questo va bene Branco del caos Fantocci del caos Questi qua sono gli unici che mi inter... Ah! Attenzione Se arriva pure un ordo da questa parte Cambia tutto Ah! Meno male sta baglia qua l'ho fortificata Però siamo contro due ordo del caos Se sono pure queste sei Ragazzi Tutti i piani che avevamo di attaccare il nord Sono sei Sono assolutamente andato in fumo Ero abbastanza contento Cioè contento no Ma insomma Fiducioso Ottimista Perché l'orda che era arrivata non era granché Se però Ne arriva un'altra qua E poi anche la terza Attaccherà noi Non è proprio il top Questi vanno a nord senza attaccare città E forse questi ora attaccheranno una mia città Non lo so Tra l'altro loro ci vogliono bene ma siamo in guerra Non c'è possibilità di fare pace Perché è scriptata la cosa Cioè non ci si può proprio fare diplomazia con loro Comunque ridendo scherzando ci fotono un sacco di soldi Cioè guardate qua Oh No adesso dobbiamo cercare di concentrarci E fare fuori subito queste orde qui Non ci hanno ancora attaccato Confederazione Tra Xoalti, Sentinelle e Xeti Quindi ora il clan Pestilence se la vedrà brutta brutta Tempesta Celeste L'esercito si mobilita Clan Pestilence Missione assegnata Sconfiggio in battaglia Vabbè non lo faremo Incursioni, varia Perfetto Allora dividiamo subito di qui Eh proprietà Quindi questo è tutto Xoalti Ma sono gli unici uomini in Lucertola rimasti Secondo me se clan Pestilence si concentra facendo fuori questo E può anche lasciar perdere il nord francamente Poi potrebbe farcela Però è una situazione dove non voglio intervenire per niente Ok vista la situazione economica in cui siamo Abbiamo qualcuno che vuole Circa possibile Possibilità di commerciare No I nani che ci odiano in una maniera incredibile Continuano a farlo Vabbè qua guadagneremo davvero pochissimo Però tu sei una civiltà praticamente estinta Vediamo la Bretonnia Che un pochino più forte lo è Ma fa sempre schifo Però facciamo davvero un botto di soldi con i nani Adesso guadagniamo solo 2000 Perché abbiamo un botto di incursioni Cioè le incursioni ci tolgono quasi 2000 Ma dal commercio con i nani guadagniamo un sacco Guardate qua Va bene Allora Finora abbiamo cercato di evitare Di parlare di questo problema Ma è un problema serio Io questa zona l'ho fortificata praticamente tutta Tranne la capitale A questo punto non spendo soldi in nessun modo Tu dovrai fare tutto possibile Per tenere salda quella situazione lì Il problema è che abbiamo questa spina nel fianco a nord Mi sembra scatti un pochino Ho aggiornato ora il driver grafico Spero non mi dia problemi Ma perché? Uno, due, tre Hanno due vag Quindi fra un po' faranno un'altra spedizione punitiva a sud E va bene Vabbè qua c'è molto poco da fare Marcia forzata E si deve andare tutti fino alla piramide nera di Nagash Tu capiti sulla strada circa Quindi va bene Tu puoi andare praticamente ovunque Marcia forzata Vieni giù Anche se subisci danno va bene lo stesso Tanto basta praticamente un turno Si entra E poi ovviamente con lui recupera le forze in maniera incredibile Tant'è che non subiamo danno Ottimo Dunque Dobbiamo farmi in modo che qua ci sia una rivolta Quindi Tu ti metti vicino alla città E la razzi Il prossimo turno qua c'è una rivolta al 100% Ma qua potremmo anche salire Io volevo fare qua che miri Perché ora si chiama così Andiamo a aspettare 4 turni Eh dai Che iniziamo a fare le nostre prime navate arcane Ci servono anche per le tech Perché sennò non possiamo andare avanti Navata pestilenziale Non arcana Tattattà abbiamo mosso tutti Non so se ci saranno degli scontri in questi episodi Ma Già solo vedere questi E' un po' un problema Voglio vedere questi qua se ci attaccano per primi Comunque abbiamo due orde su di noi Speriamo che i servi del caos Cioè insomma Non arrivino di qui Perché sennò Siamo fottuti Vediamo un po' cosa succede Potrei costruire qualcosa No Rebellione imminente Ahi no Rivolto nel regno delle bestie Perfetto Incursione qui Ora io penso che i nani Non romperanno mai i patti con noi In questo momento Sono in una situazione troppo Debole Infatti ora perderanno anche Tobaro Speriamo che non vadano a perdere Il collegamento Tra la loro capitale E i nostri territori Cioè dobbiamo motivare un po' i nani In questo momento E' brutto da dire ma è così Anche perché se questi crescono troppo Poi è più difficile batterli E ci serve il loro apporto economico Perché senza i nani Ora saremo in deficit Questi qua Non so come facciano Non Non direi che vinci O vincono ancora adesso Speriamo che in due eserciti Riescono a fare qualcosa Tra l'altro stai razziando Le tue stesse terre Sono proprio degli scaven maledetti Cioè giocano da scaven Veramente non come me Andiamo avanti Ziggurata dell'alba Che è una zona particolare Per Io a meno lo certo La certamente Sulla mappa Non vedo cambiamenti Quindi conquiste non ne hanno fatte Ok Vipera blu Vediamo un po' La luna gobba Dove fermarlo Vabbè Davanti Ok Fermati Vediamo cosa fanno questi Uno alla volta Fantoci del caos Dai L'unica città Non forse Però non stanno attraccando Non so dove stiano andando Io non ho Questi forse attaccheranno lì Forse sono scriptati Cioè ognuno Ogni orda Andrà su una città Se si dividono Per noi è certamente meglio Questi sembra che vadano Più verso la 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 Come si dice Bravi subite danno Dall'auguramento Questi qua vogliono andare a nord Oppure loro È arrivato il sesto Mino Che è rimasto indietro No ma forse questa nave qua Subisce l'auguramento Gli altri no Non so dove stiano andando Quello Questa città non è fortificata Potremmo fare delle mura Ma ormai sarebbe tardi Non abbiamo ancora subito Il primo attacco Ad ora Vediamo se ci attaccano La torre di nera Sì Prima città sotto assedio Dovrebbe avere pure Delle mura Potremmo tentare una sortita Se non hanno i rinforzi in zona Vediamo un po' Se questi due eserciti Non sono in zona Potremmo farlo Se questi tre eserciti Questi tre eserciti Sono in zona Sentite ragazzi Io penso che la combattiamo Per fargli più male possibile Però L'episodio di oggi Davvero Non posso farlo più lungo di così Quindi ci fermiamo qua Ci vediamo nel prossimo episodio In cui cercheremo Con questo esercito Di resistere il più possibile Hanno dei cannoni Quindi sfonderanno di certo Poi hanno dei troll Forse ci conviene stare sulle mura E basta Però potrei mettere La par di ieri Possiamo resistere Secondo me non tanto Però se guardate bene Hanno non tantissime unità Che possono andare sulle mura Qua ne hanno Compreso il generale Quattro Qua ne hanno un bel po' di più Ma sono scarsissime Nell'altro esercito Ne hanno Questi due non sono male Ma ne hanno anche Quattro Compreso il generale Quindi Se riusciamo a fare un bel tappo Con queste due Magari Non dico che vinceremo Perché perderemo La battaglia di sicuro Ma magari riusciamo a resistere un po' E fargli molto male Dai ci salutiamo qua Ci vediamo nel prossimo episodio Ragazzi GG a tutti Grazie 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 Grazie